Kate, la principessa del Galles, era stata incaricata di fungere da mediatrice tra il principe William e il principe Ferri nelle prime fasi del loro allontanamento. Kate, la principessa del Galles, rinuncerà all'ambito ruolo di pacificatrice reale, per concentrarsi sulla guarigione dopo i molteplici colpi che il principe Ferri e Meghan Markle hanno subito nel corso degli anni, ha affermato un esperto reale. La reale senior è stata ripetutamente accusata di non aver fatto sentire la duchessa di Sussex benvenuta quando si è unita alla famiglia reale, con l'autore Omid Scobie, che la descrive come fredda e molto desiderosa di compiacere l'establishment reale, mentre Scobie insisteva che Ferri e Meghan non contribuissero al suo libro con aneddoti personali, la coppia non ha affrontato le affermazioni vergognose fatte dall'autore, che si dice sia uno stretto conoscente. Il commentatore Kinsey Schofield ha osservato che, nonostante Scobie neghi qualsiasi collaborazione, Ferri e Meghan continuano ad apparire troppo vicini a Endgame, rendendo difficile per Kate prendere in considerazione l'idea di mediare un accordo di pace tra il duca e suo marito. Dopo la partenza dei Sussex nel 2020, la principessa del Galles era stata incaricata di assumere un ruolo di pacificatrice, e di utilizzare la sua stretta relazione con Ferri per mediare un accordo di pace.